Quando sono con te, sento dentro di me un frastuono, una musica Genua, Genua, Genua Girare il video al Ferrari si è stato molto emozionante perché poco tempo prima, qualche anno prima, giocavamo a qualche centenaria di metri più a fianco in via Rubino o comunque da quelle parti lì per cui entrare dentro il templio è stata una cosa è anche lì un super riconoscimento proprio sociale qualcosa di buono abbiamo fatto, se ci fanno entrare qui voglio dire, qualcosa di buono sicuramente abbiamo combinato anche lì è una grande soddisfazione ci sono sicuramente anche alti e bassi nella relazione con una squadra di calcio con la propria squadra perché come in ogni relazione che si rispetti ci sono dei momenti più difficili, alcuni più semplici però penso che sia più semplice sinceramente con la squadra di calcio perché è un rapporto un po' forse meno intimo sì è vero, noi facciamo anche l'amore col Genua ma in maniera un po' più figurata, un po' più simbolica per me l'amore è istinto, passione e felicità quando è ricambiato per me l'amore è complicità ma è anche una specie di compromesso tra due persone che si scambiano sia sentimenti ma anche idee, opinioni quindi si crescono a vicenda è un qualcosa che fa paura da una parte, che ti riempie dall'altra che fa godere molto e che ti viene voglia di non perderlo mai l'amore è riuscire a tenere insieme le contraddizioni cioè riuscire a fare dei ponti tra delle cose belle, brutte cioè riuscire a dire che va bene è accettare e essere contenti di amarsi e di odiarsi di trovarsi bene, trovarsi male di avvicinarsi, di allontanarsi complicità ma anche comprensione e anche tanta comunque comunicazione in maniera davvero però paritaria cioè dovrebbe essere la cosa più democratica possibile l'amore comunque se posso aggiungere una cosa più leggera a proposito delle contraddizioni l'amore è anche birretta e tisana, tutte e due le cose il messaggio che possiamo mandare gli innamorati è intanto di diffidare da noi che di amore siamo abbastanza delle catastrofi ma a parte questo di abbracciarci abbracciamoci, abbracciatevi Cosa si prova a sentire gli applausi dopo il concerto? Noi in realtà un pochino volevamo fare i calciatori e sentire il boato quando si segna o il boato o il boatino dal campetto di provincia allo stadio ecco non si è riusciti a fare i calciatori e sentire gli applausoni alla fine del concerto è un po' crediamo come sentire il boato quando si fa gol Il derby lo viviamo con grande leggerezza come viviamo veramente tantissime con l'exotago diciamo che dalla leggerezza ne abusano quasi e per cui anche il derby ce la meniamo è un menaggio però molto leggero molto sincero non c'è mai astio Abbiamo apprezzato molto lo stesso gli auguri dei giocatori del Genoa anche se la fede è un'altra No, più che altro quello che bisogna dire francamente qui dovete stare zitti seriamente che il Genoa ora è qua a intervistarci con una maglietta che ha scritto exotago dietro non ho visto nessun sandoriano francamente vicino a noi Sì, con Jack ci siamo trovati subito alla grande noi l'abbiamo sentito per telefono e lui ci ha detto subito che è un nostro grande fan e ci è stato da subito un'intesa pazzesca Il rito che noi facciamo prima di suonare sempre che ci invidieranno i calciatori che prima di giocare non possono farlo è che ci facciamo delle cene fantastiche mangiamo e beviamo a stecca vino buono alziamo tanto corocchinato Alziamo tanto corocchinato sì Il nostro nuovo album che si chiama appunto corocchinato credo che abbia valore perché è un punto di vista non oggettivo assolutamente partigiano e che deriva da un punto preciso nel mondo e per questo motivo in questo momento storico penso che abbia appunto valore che sia interessante perché viviamo in un'epoca in cui si tende sempre a globalizzare a omologare sia il pensiero che il gusto che gli ascolti e per cui un punto di vista così radicale tutto sommato trovo che sia una risorsa e poi troverete canzoni che parlano di situazioni estremamente comuni apparentemente banali che succedono tutti i giorni ma dentro le quali pensiamo che poi si giochi veramente alla qualità della vita delle persone perché noi vogliamo diventare un prodotto tipico e crediamo che abbinare un'opera d'arte una canzone o un disco a un territorio preciso sia una cosa bellissima poi Genova è una città che nel bene o nel male ti segna ti lascia delle cicatrici profonde alla fine di marzo scusate partiremo per un tour quindi alla scoperta di altri corocchinato in giro per l'Italia perché per noi corocchinato è un simbolo non è un invito all'alcolismo al consumo ma rappresenta un momento speciale della giornata che è quello appunto del dopolavoro in cui ci si sbottona la camicia e si parla tra amici dei massimi sistemi davanti a un bicchiere appunto di corocchinato in questi giorni portiamo in giro il documentario che appunto si intitola Siamo come Genova lanciamo qui in diretta con il nazionale e internazionale al Genoa Football Club TV e vorremmo che il Genoa adottasse Quando sono con te come coro da stadio Un saluto a Genoa Channel e a tutti i tifosi di tutte le squadre del mondo da parte degli ExoTago Buona Genoa Ciao Ciao